Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di ieri in Capitanata, tanta paura soprattutto su Gargano, in particolare a Vieste. Cielo nero e forti raffiche di vento hanno colto di sorpresa i tanti bagnanti che in quel momento affollavano la spiaggia. In pochi minuti il vento è iniziato a far volare ombrelloni e sdraio, in quel momento occupati dai turisti che sono stati prontamente messi al riparo dai dipendenti dei tanti lidi che affollano il lungomare. Insieme al vento fortissimo che ha provocato quasi una tempesta di sabbia si è abbattuta sulla cittadina anche una bomba d'acqua. I temporali si sono abbattuti su tutta la provincia di Foggia dove la protezione civile aveva diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Pioggia abbattente anche a Peschici dove come a Vieste prima del violento nubifragio il vento ha costretto i bagnini ad evacuare gli stabilimenti balneari. Disagi anche nel capologo d'Auno per la violenta pioggia con allagamenti ovunque nei vari centri della Capitanata tra cui soprattutto Cerignola e la zona del basso tavoliere è stata colpita.